ciao a tutti bentornate anime qua su quinta dimensione letture vi invito iscrivervi al canale e attivare la campanellina cliccando su tutte per ricevere tutte le notifiche di questo canale io vi ringrazio sempre tutti quanti sapete e ci tengo a ringraziarvi sia per quello insomma che mi commentate qua nei video vi ringrazio ma soprattutto quello che viene fuori a livello personale nelle consultazioni quando parliamo in privato e sono contenta che tantissime persone si stanno veramente avvicinando alla spiritualità anche grazie a questo canale ad una crescita spirituale e fanno domande per capire insomma che cosa che cosa sarebbe da sbloccare come si deve comportare eccetera eccetera sono contenta poi di risultati che poi dopo mesi insomma mi dite no che ne parliamo insieme eccetera eccetera quindi ottimo io vi ringrazio veramente di seguirmi ma di seguire anche proprio quello che trovate come tra virgolette lezione di quello che ci sarebbe da fare eccetera eccetera questo è un periodo molto importante per noi amiche amici perché è un periodo di ascensione un periodo eccezionale che stiamo attraversando che stiamo vivendo proprio su questo pianeta la madre terra sapete ve lo dico spesso è già in quinta dimensione e ora tocca a noi anche se siamo una diciamo piccola parte però possiamo fare tantissimo anche per quelli che ancora purtroppo stanno diciamo così dall'altra parte c'è da questa parte del velo diciamo cioè dove c'è questo velo di dimenticanza dove non capiamo il nostro essere divino dove non capiamo la nostra missione cosa dobbiamo fare il fatto che siamo divini e quanto potenziale abbiamo in realtà per poter no aiutare l'ascensione molto karma è stato già dissolto molto karma nostro di tutti no però ancora diciamo che non basta c'è ancora molto da lavorare gli operatori di luce i semistellari stanno facendo tantissimo in questo periodo veramente epocale quindi grazie a tutti comunque per il contributo che date allora la soluzione c'è la soluzione in realtà è chiedere perché quando si è in difficoltà quello che ci può aiutare è la parte divina già la nostra la parte io sono che vi dico spesso il vostro sé superiore collegato comunque alla cassa e al maestro san germain a proposito di questo vi ricordo in questo video c'è la meditazione gratuita della cassa c'è il mantra io sono di san germain comunque da recitare ci sono tanti contenuti di crescita personale oggi vi propongo sapete che seguo molto crayon e le canalizzazioni appunto da più di 30 anni canalizzato da lì carol questo diciamo individuo americano molto bravo che ci porta ci ha portato crayon tantissime informazioni sulle murie su atlantide comunque sull'inizio è della civiltà del genere tra virgolette umano la prima razza la seconda razza la terza razza queste sono cose che chi ha letto o sta leggendo i libri di telos dal primo al quarto volume che vi ho presentato proprio nel video della fiamma viola di san germain dovrebbero sapere perché comunque si parla proprio dell'evoluzione proprio del genere umano diciamo allora oggi vi do un'altra formuletta un altro mantra molto potente che funziona che è quello di chiedere la direzione cioè se quello che stai facendo va bene e se non ti stai accorgendo di qualcosa cos'è che ancora manca cos'è che ancora devo capire devo vedere cioè quando lavorate a livello personale vi sarete accorti che è abbastanza difficile a volte una manifestazione delle risposte no abbiamo ancora tanti dubbi insomma oltre che vabbè lo dico sempre i lavori con le energie non sono semplici non sono immediati a volte sì a volte a volte ma raramente raramente forse più che a volte ci vuole il tempo con le energie ci vuole il tempo anche un'energia che si è ripulita ci vuole tempo per manifestarsi state ripulendo vi facendo un buon lavoro ma ci vuole tempo per far vedere però che cosa attanaglia molto spesso noi nella terza dimensione chi ancora è magari solo all'inizio di questo viaggio di questo percorso ci attanaglia il dubbio cioè ma sto facendo bene e questo interrogativo proprio lo sto facendo bene è proprio stato lo spunto che mi ha fatto fare questo video perché viene da una canalizzazione di crayon che si chiama appunto se lo sto facendo bene e dice proprio come rivolgersi allo spirito all'universo va bene per chiedere proprio una risposta più chiara cioè se stai andando verso la strada giusta cosa che interessa molti no e che cosa dovresti fare appunto quindi chiediamo proprio in questo senso ve lo scrive in sovraimpressione va bene ci dice crayon vi leggo testuali parole canalizzate che dice molto spesso c'è questa domanda come fare questo crayon e lui ci risponde io vi do la soluzione quindi pronti ogni giorno ogni mattina ogni notte dovete fare queste cose scusate vi faccio vedere anche queste perché dopo vi metto un messaggio canalizzato scegliete la stesa 1 la cucinella gialla la stesa 2 cucinella arancione stesa 3 cucinella rosa perché dopo facciamo anche il messaggio che chiaramente non è mai un caso e poi mettiamo anche un'altra cosa che vi faccio vedere dopo intanto partiamo con questa richiesta allo spirito proprio per aiutarci ancora di più in questo cammino per quelle di voi che la vogliono fare che che sono capitati qui a vedere questo video va bene e che hanno appunto questo interrogativo ogni giorno ogni giorno ogni mattina ogni notte dite caro spirito questa direzione in cui sto andando se non è corretta spostami do il permesso di spostarmi se non è corretta io do il permesso di essere al posto giusto al momento giusto io do il permesso di correggermi se non sono nella via corretta e io sarò così a mio agio con questo non sarò ansioso seguirò il percorso più intuitivo ma se è errato ti do il permesso di spostarmi di muovermi di farmi iniziare di nuovo ci dice crayon che questo è tutto quello che deve essere fatto avete notato quante volte dice do il permesso qui ci vuole una fede assoluta è spostarmi muovimi spostami fammi cambiare strada ricomincio ecco qual è la differenza da chi riesce chi non riesce non c'è da metterci in mezzo il nostro volere dobbiamo veramente abbandonarci fluire proprio nell'universo nell'energia divina avere piena e totale fiducia spostami pure caro spirito se non sto facendo bene spostami fammi capire fammi cambiare la direzione se non sto facendo bene perché magari non stiamo facendo bene quindi chi ce lo dice ecco perché è importantissimo questo video è importantissimo questa canalizzazione ve l'ho portata apposta perché magari tanti dicono io parlo con molti di voi che mi dicono ma io sono tanti anni che lavoro però insomma a parlare poi non sembra parlandovi cioè non c'è ancora quella crescita invece si deve vedere la crescita chi lavora si deve vedere si deve vedere se non si vede c'è un lavoro sbagliato o avete seguito persone sbagliate avete iniziato dei percorsi sbagliati persone che attenzione adesso sono tutti santoni sono tutti guru parlano tutti con gli arcangeli tutti con gli angeli sono tutti le reincarnazioni di gesù cristo le reincarnazioni di maria insomma adesso sono nati come funghi attenzione perché le oscurità le forze del male i draconiani gli esseri oscuri che stanno facendo anche tutto quello che sappiamo a questo pianeta in questa situazione drammatica drastica bruttissima in cui ci troviamo da dal 2019 fine 2019 inizio 2020 c'è la mano anche dell'oscurità perché ancora non l'ha capito strano che ancora non è stato capito quindi attenzione anche a chi vi si presenta perché adesso l'oscurità si veste di tanta luce si dice da se stessa no da soli si dicono che sono le reincarnazioni di chi sa chi attenzione a non cadere in queste cose andiamo avanti un'altra cosa da dire aggiungetela quella di prima lascio andare e accetto l'idea del posto giusto al momento giusto e anche se voglio qualcosa con tutto me stesso e se vengo spostato trattenuto dal raggiungere io dico grazie dio grazie perché mi hai spostato lontano da questo perché non dovevo essere lì grazie per avermi mostrato la forma giusta inoltre aggiungiamo un'altra cosa bellissima sempre sempre di crayon giusto o sbagliato sì o no mostrami io do il permesso mentre riemergo dimostrarmi se queste decisioni che sto facendo e che forse dovevo fare tanto tempo fa sono appropriate caro spirito dimmi quello che ho necessità di sapere bellissima vedete come come si chiede proprio come dire mi abbandono fammi sapere io ti do il permesso ma fammi sapere cioè fai capire così che l'importante per te è la crescita non ti interessa se stai sbagliando se devi ricominciare da capo non importa devi essere una roccia devi essere forte e facendo vedere questo tipo di disponibilità che hai l'universo ti risponde sarai premiata sarai premiato caro spirito dimmi quello che ho necessità di sapere perché noi non sappiamo tutto magari stiamo anche sbagliando qualcosa io lo dico tutti i giorni caro spirito dimmi quello che ho la necessità di sapere e spesso mi vengono poi anche titoli per voi per questo canale così funziona questo canale è sempre tutto una sorta di risposta canalizzazione messaggi che devo portare è strano questo canale cioè ma nel senso buono è e cosa vi dice crayon in questa canalizzazione se vi sta arrivando c'è un motivo è perché crayon dice sempre nelle canalizzazioni io so chi sta ascoltando io so chi sta leggendo lo dice molto spesso questo quindi sa che chi sta ascoltando adesso le mie parole lui lo sa o lei insomma è un'entità che non si è rivelata se insomma anzi dice che comunque il maschile femminile in realtà a livello proprio sessuale insomma negli angeli esseri di luce entità incarnate di luce eccetera non neanche esiste no però diciamo che ci dice proprio che sa a chi arriveranno queste parole quindi vi dice anche non stareste guardando questo programma se non volevate conoscere quello che vi ho appena detto questo vi dice quindi lo sta dicendo a te questo lo sta dicendo a te cioè se sei qui a guardare non saresti qui a guardare se questa informazione non ti doveva arrivare perché dico sempre la sincronicità perfetta lo dice anche crayon non staresti qui se no questo se no questo video ti passava via non l'avresti visto invece no l'hai guardato ecco perché questa è l'importante no quindi lui dice tornerò così è questo è il modo in cui create la vostra realtà della giusta forma nello spazio giusto canalizzato da lee carroll nel maggio del 2020 la traduzione è appunto dell'entourage di crayon punto it quindi va tutto insomma i diritti a chi devono andare per carità è solo una divulgazione va bene che più possibile deve essere fatta e che deve arrivarvi adesso se avete scelto la vostra coccinella vi leggo anche un altro messaggio che guarda caso deve arrivarvi oggi guarda caso sempre tra virgolette dai miei messaggi di vignoracolo canalizzato come vedete abbiamo anche la tovaglietta sotto è proprio del mazzo va bene questa tovaglietta che si chiama proprio messaggi di vini andate a vedere tutto nella descrizione chi la vuole acquistare per fare comunque lavori di luce pendoli oracoli tarocchi eccetera eccetera morbidissima in cotone circa circa quasi 60 centimetri per 60 è quadrata dietro è bianca comunque è veramente morbida sono proprio contenta di averle fatte comunque seguitemi perché ho fatto anche altri altri cose altri prodotti molto carini allora vediamo mettiamo un messaggio per la coccinella gialla qual è il messaggio per la coccinella gialla la sincronicità perfetta di questo video qual è per la coccinella per la coccinella rosa qual è per la coccinella rosa qual è cosa deve arrivarti adesso qual è il messaggio dai miei messaggi di vignoracolo cos'è che adesso devi sapere a te che hai scelto la coccinella gialla vediamo mantieni la tua mente aperta i numeri per te sono 1 e 55 chi cerca trova qua ci sono cose in arrivo qua ti chiedono proprio di non sottovalutare nulla fai caso a tutto anzi mantieni vive la tua curiosità cerca ti dicono qua chi cerca trova i numeri fortunati 1 5 o anche 55 comunque sia no mantieni la tua mente aperta attenzione qua c'è da non stare non vivere non permanere in certi stereotipi che ci siamo fatti mi raccomando mantieni la mente aperta ci sono ancora cose che non sai cose nuove che devono venire a te arrivare a te quindi devi essere pronta o pronto a fare entrare questi nuovi messaggi queste nuove cose che ti devono arrivare non avere pregiudizi non avere nessun tipo di paletto insomma cose che t'han detto 50 anni fa basta mantenere la mente aperta le cose cambiano la vita evolve tu evolvi tu cresci la tua vibrazione cambia mantieni la mente aperta ci sono cose per te nuove in arrivo e chi cerca trova quindi c'è qualcosa che deve venire a te vediamo un po adesso anche da questo mazzo sempre molto diciamo vibrazionalmente corretto esatto del viaggio dell'anima vediamo un po cosa c'è da dire qua cosa deve arrivare qua che ha scelto la coccinella gialla cos'è che deve arrivare il perdono io permetto ok che i blocchi no quelli causati dal risentimento e li faccio fluire nell'amore quindi qua perché hai scelto la coccinella gialla c'è un perdono da fare forse anche cose vecchie cose passate e devi dire che acconsenti che questi blocchi ok perché alla fine sono blocchi eh cioè il risentimento è comunque un blocco quindi lasciali fluire falli andare nell'energia nel flusso dell'amore questo devi fare coccinella gialla questo è un altro consiglio per te comunque ci vuole il perdono va bene questo è molto importante qua ci sono cambiamenti per la coccinella gialla proprio a livello interiore sono sicura a livello proprio di crescita interiorità eccetera eccetera va bene coccinella gialla ti saluto grazie questo era quello che doveva arrivarti oggi lasciami un like al video iscriviti al canale io proseguo e vado avanti coccinella arancione cos'è che deve arrivare a te adesso in questo momento perfetto qua vediamo un po la magia divina ti sta aprendo nuove opportunità 777 otterrai un risultato insperato benissimo coccinella arancione qui c'è un risultato che comunque tu stai credendo veramente impossibile e invece guarda un po che non è per niente impossibile perché qui c'è una magia divina che lavora e che cosa sta facendo questa magia divina a te ti sta aprendo delle nuove opportunità quindi oltre a dirti che si presenteranno comunque cose nuove che potrai fare c'è anche un risultato che tu forse hai abbandonato perché ritieni sia impossibile l'avverarsi di questo tuo desiderio di qualcosa che stai sperando può essere riguardo qualcuno o può essere riguardo un progetto riguardo qualcosa ma no eh otterrai un risultato insperato queste qui non arrivano a caso queste cose sono troppo dirette sono troppo precise non è un'interpretazione mia così come mi è venuta oggi queste sono dirette uniche perfette la magia divina ti sta aprendo nuove opportunità 777 quindi non sottovalutare nulla attenzione ci sono cose in arrivo per te adesso vediamo coccinella arancione tra l'altro c'è questo bellissimo risultato che devi ottenere vediamo un po dal viaggio dell'anima qua cos'è che deve venire fuori qua per chi sta scegliendo perché ha scelto la coccinella 2 arancione un altro consiglio un qualcosa che c'è da fare qui adesso ah qui c'è l'accettazione da fare ok qui dice che devi impegnarti comunque nella nell'accettazione delle cose che non puoi cambiare quindi quale devi accettare qua devi anche un pochino lasciar perdere tante volte coccinella arancione se una cosa non la puoi cambiare non la puoi cambiare lascia stare perché così crei dei blocchi crei delle diciamo ti metti lì come un muro no della resistenza la resistenza non la devi fare l'accettazione è importante ok quindi devi dire io sto imparando ad accettare le cose che non posso cambiare quindi capiscilo che delle cose che non puoi cambiare non devono diventare l'ossessione della tua vita lasciale andare lasciale fluire accettale qui è accettazione perché così guarisci così ti liberi questo è un po come il perdono l'accettazione è un po cioè non è una sconfitta perché molti pensano governati ancora dall'ego della terza terza dimensione quindi dell'energia massosa pesante va bene duale egoica a molti pensano che il perdono l'accettazione di qualcosa sia una sconfitta sia come un cedere a noi io non cedo non cedo perché se ti perdono vuol dire no no è esattamente il contrario questo magari però è un concetto molto grande che solo le anime che comunque da mo come si dice che lavorano riescono a integrare dentro di loro no nella loro energia l'accettazione non è una sconfitta l'accettazione è un segno di intelligenza di crescita personale e spirituale perché vuol dire che sei così forte che riesci anche ad accettare ciò che non puoi cambiare e comunque vivere lo stesso benissimo ad andare avanti altro che debolezza altro che debolezza questa è forza pura ok coccinella arancione questo era quello che ti doveva arrivare oggi lasciami il like al video iscriviti al canale io proseguo e vado avanti coccinella rosa il messaggio per te qual è tutto ciò che accade è una proiezione di ciò che sei e pensi sforzati nel fare bei pensieri 1551 tra l'altro è arrivato anche lo sfondo rosa no vedete con la coccinella rosa non è la prima volta che arriva questa cosa allora qui forse c'è da fare un po di attenzione coccinella rosa a quello che proietti a quello che pensi ok perché in realtà la tua diciamo vita la tua realtà quello che ti accade è semplicemente una manifestazione del tuo pensiero molti lo sanno ma molti forse no quindi ti dice qua sforzati nel fare bei pensieri perché perché se tu fai bei pensieri la realtà cambia e non dite che non funziona non dite che lo fate da vent'anni e non va funzionato mai perché non è possibile forse lo fate male questa è come la cosa che dico che ho detto in un altro video quando dico parlo con tanti che mi dicono che lavorano da non so quanto nella spiritualità nelle cose poi insomma se li senti si insomma non sembra proprio forse si lavora male non è che nessuno dice niente però magari se dopo tanti anni di lavoro vedi che non cambia mai niente non ti fai una domanda che magari stai sbagliando quello che stai facendo o ti stai affidando a persone poco poco serie allora sforzati nel fare bei pensieri qui devi capire che l'importante sei tu non è il maestro in quel momento sei tu il maestro ti dà un'indicazione poi maestro insomma una persona che magari ha lavorato più di te ok in terra non ci stanno dall'altra parte sì ma qua no perciò non devi essere un adepto seguire le sette o perché c'è il maestro reincarnato di gesù cristo sulla terra qui l'importante sei solo tu chi cerca di privarti di te stessa o te stesso mandalo via dalla tua vita ma ma anche velocemente devo dire va bene nessuno deve avere la il controllo di un'altra persona non deve esistere quindi se cerchi tra virgolette un maestro sappi che il maestro sei tu puoi incontrare persone come così ha incontrato me che magari ti danno qualche indicazione ma il lavoro non devo fare io io lo faccio per me il lavoro ok il lavoro su di te lo devi fare tu io ti posso indicare magari che cosa stava che cosa ha funzionato per me cosa ha funzionato per gli altri in tanti anni di lavoro te lo posso dire però il lavoro su di te lo devi fare tu non affidare la soluzione delle tue cose agli altri perché qua questo è qua la proiezione di ciò che sei e pensi la fai tu quindi attenzione qua ci dicono un po' di pensiero un pochino più positivo ok fai bei pensieri i numeri fortunati 1551 allora andiamo avanti anche per te a vedere un messaggio di questo viaggio dell'anima vediamo un po' il viaggio dell'anima della cucina della rosa qual è abbondanza ah che bello io sono un essere senza limiti posso manifestare qualsiasi cosa io desidero nella realtà fisica cioè pensa che bellezza che ti è venuta qua c'è anche un abbondanza probabilmente che sta per arrivare a te ok qui devi recitare questo comunque che sei un essere senza limiti e puoi manifestare qualsiasi cosa che desideri nella realtà fisica magari te la segni questa frase va bene perché è importante ecco perché vedi qua dice comunque la recitazione dei pensieri e ti è venuta la recitazione di questa cosa forse problemi con l'abbondanza non lo so ma l'abbondanza attenzione non è che sono solo i soldi è l'abbondanza è una serie di belle cose della nostra vita abbondanza di di salute abbondanza di cibo una bella casa una bella famiglia delle belle persone l'abbondanza è tutto per l'universo l'abbondanza non sono solo i soldi l'abbondanza è una vita ricca di tante cose perché se hai solo i soldi non va bene ok non sono solo i soldi ci vuole l'abbondanza d'amore l'abbondanza di bene l'abbondanza nel lavoro cioè l'abbondanza sono tante cose belle che tante cose belle fanno una bella vita ok non è che solo i soldi fanno la bella vita va bene quindi qua sei un essere senza limiti questo devi dire che tu sei un essere senza limiti e puoi manifestare qualsiasi cosa tu desideri in questa realtà fisica va bene questo è il concetto che dico spesso che molte volte in quinta dimensione già esiste la cosa che tu desideri ma nella terza non si riesce a manifestare perché la terza è dura è difficile è dolorosa è pesante la terza dimensione ecco perché a volte non vediamo i risultati ma in realtà in quinta dimensione c'è già magari una manifestazione di quello che è la tua forma pensiero di quello che hai mandato fuori va bene magari in quinta dimensione si riesce molto più veloce la cosa va bene coccine la rosa allora ti saluto lasciami un like al video iscriviti anche al canale vi ricordo tutti comunque la cosa principale di questo video che era appunto la soluzione c'è di crayon che dici caro spirito dimmi quello che ho bisogno che ho necessità di sapere va bene quindi qua dopo leggete anche la descrizione perché lo metterò sotto questo va ad aggiungersi a quelli di voi che stanno già recitando decreti cose insomma se vi sentite vi risuona sentite i brividi e sentite che è per voi fatelo pure senza chiedere a me senza chiedere a qualcuno dovete sentirlo voi se un lavoro lo dovete fare ok non fatevi non fatevi insomma manovrare la vita dagli altri se se io dico no magari adesso non fare questo tu non lo fai ma tu fallo sti senti di farlo ok questo è molto importante dovete essere i maestri di voi stessi voi dovete essere i maestri di voi stessi non dovete affidare a nessuno la vostra il vostro futuro la vostra felicità questo è un grandissimo errore che fanno tante persone è la crescita personale spirituale la tua tu devi solo fare fare ok quindi semmai aggiunge anche questo alla lista di cose belle che puoi fare cose utili che puoi fare per la tua crescita vi ricordo tutti quanti il mio sito web appunto anche dove ci sono queste contenuti canalizzazioni articoli per la crescita personale www.quintadimensioneletture.it datelo a vedere perché ci sono molti altri spunti per lavorare va bene quindi che altro dirvi le box informazioni lo stesso per chi vuole le consulenze in privato con me parlare insomma di cose nostre di cose tue di come poter perfezionare alcuni aspetti insomma di te della tua crescita ma non perché te lo dico io perché semplicemente magari si fa un piano energetico di azione o comunque sia le persone raccontano poi le loro cose quello che fanno quindi vi invito a leggere sempre le descrizioni dei video dove trovate tutti i link anche per chi vuole acquistare queste nuove tovagliette per chi vuole acquistare comunque anche gli oracoli di casa quinta dimensione letture comunque sia insomma un po di informazioni va bene vi ringrazio tutti vi mando un grande abbraccio vi mando tantissima luce e vi auguro tantissime belle cose sempre vi aspetto presto qua su quinta dimensione letture per un nuovo interattivo con me ciao a tutti e grazie